Abbiamo visto quali sono i requisiti di ammissione alla laurea magistrale. Vuole una laurea triennale, un voto di laurea di almeno 95 centodicesimi, almeno 50 crediti complessivi in una serie di ambiti disciplinari che ho già enumerato. E chi è senza requisiti? Allora, dicevo che chi è senza laurea triennale, ahimè, lì non si può transigere, e non viene respinto. Chi invece fosse con un voto di laurea inferiore a 95 centodiecesimi, con un numero di crediti della laurea triennale più basso di 50, bene, questa una chance ce l'ha, nel senso che potrà chiedere di essere ammesso a un colloquio. Si troverà davanti a una commissione, nella commissione spesso ci sono io, il colloquio si svolge nella seconda metà di settembre normalmente. In cosa valuta la commissione? La commissione valuterà se questo candidato ha comunque acquisito delle capacità, adesso si dice delle competenze, vicine, affini a quelle che gli avrebbe fornito una laurea triennale, in ambiti magari vicini all'antropologia, per cui tutto sommato lo si può comunque ammettere alla nostra laurea magistrale. E quali sono questi ambiti in cui lui può avere acquisito quelle capacità, quelle competenze? Sono quelle che so una persona che ha lavorato in servizi migratori, in servizi sociosanitari, ha lavorato nel turismo, ha anche viaggiato molto, mostra una curiosità per il mondo, ha lavorato per musei, per gallerie d'arte, per industrie culturali, ha lavorato nel giornalismo, oppure in ambito educativo e di istruzione, oppure ha fatto del volontariato in Italia o all'estero, in ambiti che possono anche solo lattamente toccare l'antropologia. Una volta che lo studente, il candidato, è ammesso e si è immatricolato, anzi nel momento in cui si immatricola, dovrà decidere come si immatricola. L'iscrizione e l'immatricolazione possono essere di due tipi, o a tempo pieno o a tempo parziale. A tempo parziale vuol dire che lo studente sceglierà un numero di crediti da acquisire, e quindi vuol dire di insegnamenti da seguire, di esami da superare in un anno accademico, e per quelli pagherà le relative tasse. Io suggerisco in questo caso di farsi un calcolo anche economico delle tasse che si vanno a pagare, perché mi hanno detto, io non l'ho mai verificato, devo ammettere, che la cifra complessiva risulta più alta di quella che non si paga con l'iscrizione a tempo pieno. Procediamo. Il nostro corso di laurea è strutturato in due anni di studio, che vuol dire 120 crediti formativi, che vuol dire anche 12 esami e un laboratorio, del quale vi parlerà il collega Marco Traversari, che attenderemo tra un attimo, e una tesi di laurea. È strutturato in esami obbligatori ed esami a scelta. Gli esami obbligatori sono quelli che vedete enumerati sulla diapositiva, io li leggo, antropologia della parentela di genere, antropologia delle religioni, metodologia della ricerca antropologica, modelli teorici dell'antropologia, pedagogia e culture dell'educazione, sistemi di pensiero, storia e mentalità per il primo anno. Gli obbligatori al secondo anno sono il numero minore, antropologia politica, antropologia economica e sviluppo, e il laboratorio di cui dicevo. E poi c'è tutta una serie, vedete, piuttosto vasta, di esami a scelta, sia nel primo sia nel secondo anno, antropologia dei processi migratori, antropologia medica, antropologia estetica, antropologia del turismo per il primo anno, cultura e società dell'Africa, cultura e società della Cina, del Pacifico, società dei processi culturali e comunicativi, antropologia storica, cultura e società dell'Asia, dell'Europa e del Mediterraneo, del Medio Oriente, delle Americhe, geografia e storia moderna, per il secondo anno. Alcuni di questi esami, in realtà una gran parte di questi esami, vedete, sono in corsivo, non in tondo. Sono loro il fiore all'occhiello e anche una delle caratteristiche distintive del nostro corso di laurea. In che senso? Nel senso che chi tiene questi insegnamenti, quegli insegnamenti, ha una formazione da antropologo, sia addottorato e ha compiuto ricerche nell'ambito disciplinare definito dal Ministero come MDEA, cioè Discipline Demo-Etno-Antropologiche. Non è così invece per gli esami, vedete voi stessi, dal nome che hanno, pedagogia, sistemi di pensiero, oppure geografia e storia moderna, dove chi tiene l'insegnamento non è propriamente un antropologo. Questo perché dicevo che questo è un tratto distintivo del nostro corso di laurea rispetto ad altri, con la stessa denominazione, apparentemente, in altre sedi italiane. Perché altri corsi di laurea, sì, si chiamano magari corsi di laurea in studi antropologici, ma poi non sono tenuti da antropologi. Quindi chiedetevi voi stessi cosa vi insegnano. Allora, la lingua di insegnamento. Ma noi insegniamo in italiano. In Italia insegniamo in italiano. Poi però c'è tutta questa questione dell'internalizzazione, dell'uso dell'inglese, per cui siamo stati sospinti, diciamo così, a richiesta degli studenti ad offrire degli insegnamenti anche in lingua inglese, appunto. A richiesta degli studenti, perché è paradossale, per un docente che abbia una classe intera di studenti italiani, un docente italiano, parlare inglese, ci si trova in situazioni comiche, se non parolistiche. le cose si complicano o vanno, diciamo, negoziate quando ci siano degli studenti stranieri in Bicocca per mobilità internazionale, per uno scambio Erasmus, per un semestre nel nostro Ateneo. Allora, lì è più probabile, effettivamente, che il corso, l'insegnamento, venga tenuto in inglese. Gli insegnamenti per i quali è prevista la possibilità dell'inglese sono quelli di antropologia medica, antropologia economica e cultura e società dell'Asia. Le lezioni sono di vario tipo. Naturalmente, c'è la cosiddetta lezione frontale, per cui il professore si mette in cattedra e tiene lezione. Ma non è neanche il tipo direi egemonico, perché insieme alla lezione frontale da cattedra, c'è la visione di filmati più o meno etnografici, ci sono i commenti, ci sono discussioni e seminari, o almeno un'atmosfera seminariale in classe. Ci sono anche vari colleghi che chiedono agli studenti, li invitano, li prestano, perché svolgano delle ricognizioni sul territorio, sarà il territorio di Milano o della provincia di Milano e della Lombardia principalmente e poi riferiscano con delle relazioni che valgono a fine di esame e ci sono poi naturalmente degli interventi di ospiti all'interno delle stesse elezioni, questo succede naturalmente anche nel mio corso. C'è obbligo di frequenza? No, francamente non c'è obbligo di frequenza e questo vuol dire un paio di cose. Uno che cade molto bene in questo tempo viziato dal virus, nel senso che se saremo costretti a restare a casa anche il prossimo semestre o non si potrà entrare in classe che per gruppi limitati, per piccoli gruppi, pare che in una classe anche di 200 persone il ministero secondo gli attuali protocolli non permetta l'ingresso di più di 20, 25, 30 studenti, allora sapere che l'obbligo di frequenza comunque non c'è vuol dire che noi siamo piuttosto rodati per fornire tutta una serie di servizi e di lezioni anche a persone che appunto non frequentano ed effettivamente abbiamo un numero piuttosto elevato di studenti lavoratori che per questioni di impegno di altri impegni non possono venire, non potevano comunque venire in università e trovevano comunque soddisfazione e profitto dall'iscrizione al corso di laurea. Si laureavano poi anche con ottimi voti. Detto questo io vedo per esperienza personale parlo adesso tra i miei studenti è una diecina di anni che insegno in Bicocca che poi all'atto dell'esame posto sempre che si possa andare in classe se il virus ce lo permette all'atto degli esami chi ha frequentato o riesce un po' meglio o è diciamo un po' avvantaggiato ma per una questione così di sincronia di empatia con il professore sa quali sono i temi che lui ama come vuole che siano tagliate presentate le questioni quali sono i suoi pallini le sue idiosincrasie che tipo di esami sono i nostri gli esami sono principalmente cioè quasi tutti orali questo non vuol dire che però non ci siano degli esami anche scritti in minoranza francamente magari in itinere in itinere vuol dire fatti nel corso durante il corso durante l'insegnamento questi scritti assumono la forma più raramente di diciamo quiz o esami a croce e più spesso invece quella di vere e proprie relazioni qual è il calendario accademico che si segue nel nostro corso di laurea è quello che prevede lezioni da inizio ottobre fin sotto natale poi lì sotto natale è più o meno relativo dipende anche dai dai ponti dei santi e dell'immacolata se coincidono con le date di lezione o meno una lunga pausa esami a gennaio febbraio una ripresa delle lezioni a inizio marzo fino alla fine di maggio e quindi di nuovo a esami a giugno luglio e settembre gli appelli di esami quindi sono cinque ogni anno quando uno studente ha dato tutti gli esami si arriva alla tesi naturalmente vi inviteremo a iniziare a pensare a un percorso di tesi a un argomento di tesi fin dai primi giorni della vostra presenza in Bicocca questo non vuol dire che non si possa poi anche pensarci e pensarci dopo e pensarci anche quando uno ha finito tutti gli esami ma diciamo anche strutturare un cammino con gli esami a scelta in vista della tesi di laurea certamente è più redditizio che non altrimenti la tesi può essere fondamentalmente di due tipi noi non abbiamo preferenze per l'uno o per l'altro una tesi compilativa che vuol dire una tesi di analisi di testi analisi di archivi e quindi un percorso di ricerca su testi scritti da altri oppure una vera e propria tesi di ricerca con una base sul campo e questo campo può questa ricerca sul campo può svolgersi in Italia o all'estero abbiamo effettivamente studenti che hanno fatto ricerche diciamo da noi oppure che si sono recati all'estero e l'estero può essere un altrove più o meno lontano in Europa mi viene in mente studentesse recendi che hanno fatto ricerca in Ucraina oppure molto lontano nel mio caso ho seguito testi di ricerca in Giappone in Cina studenti colleghi ne hanno seguite in India in varie zone del continente africano allora vediamo chi sono i miei colleghi cioè i i docenti del del corso di laurea in scienze antropologiche questo che vedete qua bel bello in Camerun è il presidente del corso di laurea Ivan Barnia lui tiene un corso di antropologia estetica che tra quelli a scelta del primo anno ha fatto ricerche appunto in Camerun si occupa naturalmente di questioni relative al mondo dell'arte non soltanto all'arte dell'arte camerunese o dell'arte latamente africana ma anche dell'arte contemporanea qua da noi è molto attivo molto presente anche sui media sui giornali quotidiani nazionali forse ne avete visto il nome come curatore di mostre d'arte in Italia e all'estero si occupa poi di questioni di musei di patrimonio e di salvaguardia abbiamo Roberto Malighetti che insegna che in un corso fondamentale al quale nessuno può sfuggire è quello di metodi della ricerca antropologica ha compiuto lunghe ricerche in Brasile nel chilombo di Freixão occupandosi di discendenti di schiavi portati dall'Africa al Brasile appunto negli ultimi anni si è spostato invece sulla Cina e dove attualmente sta svolgendo le sue ricerche ha una formazione piuttosto solida anche filosofica e quindi si occupa di epistemologia e metodo della ricerca e poi questioni pratiche diciamo più pratiche di cui ha anche trattato sono quelle del pluralismo medico pluralismo etnico e pluralismo pluralismo scusatemi religioso quello vedete mi ha raccontato poco a nord di Pechino ha soggiornato e ha svolto le sue ultime ricerche in un santuario taoista Alice Bellagamba Alice Bellagamba tiene un corso altrettanto fondamentale al quale lo studente può sfuggire di antropologia poetica al secondo anno ha svolto ricerche in Africa Nera tutti gli anni trascorre un periodo di ricerca per lo più in Gambia in Ghana in Senegal in Benen o paesi limitrofi si occupa attualmente di schiavitù contemporanea ma si è anche occupata di schiavitù periodi passati quindi di memoria storica di storia dell'Africa e poi restando invece in Italia di migrazioni integrazione e confini internazionali ed eccoci a Silvia Vignato che invece tiene un corso di società e cultura del sudest asiatico che troverete al secondo anno dei vostri studi ha svolto ricerche appunto nel sudest asiatico in Malesia in Indonesia in Thailandia si occupa di modernità in quelle regioni dell'Asia e in particolare di lavoro infanzia e marginalità e sono questi i temi che tratterà nell'incontro che terrà per voi il prossimo 24 giugno alla stessa ora 14.30 come oggi altro collega è Mauro Vanaken il nome ci dice che ha origini olandesi tiene un corso di antropologia economica e dello sviluppo ha svolto lunghe ricerche prima in Pakistan poi in Giordania e ultimamente ha avviato un nuovo campo di ricerca in Tanzania e si occupa di si è occupato lungamente di cooperazione e di sviluppo ma poi si è avvicinato a questioni di cambiamento climatico ha pubblicato recentemente un libro sull'acqua quindi rapporti con l'ambiente e ideologie della natura cioè come viene concepita la natura nelle varie culture come vedete dalla fotografia non si sottrae a una partecipazione molto attiva sul campo qua sta arando un campo scosceso servendosi di un mulo ma del resto questa della partecipazione è un tratto distintivo degli antropologi Alessandra Brivio Alessandra Brivio che in un corso di antropologia delle religioni ha svolto ricerche in Africa Nera in zone parzialmente sovrapponibili a quelle di Alice Bicagamba che abbiamo visto poco fa dunque in Benen in Ghana si occupa naturalmente di religione in particolare di religioni tradizionali in Africa e ancora più nello specifico di stregoneria e possessione e poi anche di questioni che riguardano il colonialismo e il post colonialismo Manuela Tassan Manuela Tassan tiene un corso che troverete al secondo anno di società e cultura delle Americhe ha svolto lunghe ricerche di dottorato e anche successive in Brasile anche lei si interessa di concezioni indigene e di natura di questioni ambientali e territoriali cosa vuol dire questioni territoriali questioni per esempio di ossesso e facoltà di coltivare la terra e poi di discendenti di schiavi perché gli indigeni con i quali ha vissuto e a cui ha condiviso la vita per più che un paio d'anni erano appunto discendenti di schiavi giunti in Brasile e dall'Africa ecco qua ci sono io che tengo un corso al quale nessuno può sfuggire modelli teorici dell'antropologia ho svolto e ho vissuto a lungo in Giappone in particolare a Tokyo ho fatto anche brevi più brevi soggiorni in Cina sulla quale peraltro non ho pubblicato mi occupo anch'io come la collega Vignato Silvia Vignato di Modernità in Asia mentre lei piuttosto in sudeste asiatico per me piuttosto l'Asia orientale mi occupo di questioni di orientalismo di esotismo di occidentalismo cioè di come l'Occidente è concepito concettualizzato agli occhi di persone che non sono di nascita occidentali ma poi anche di letteratura o deporica cosa vuol dire letteratura di viaggio infine di architettura per lo più architettura tradizionale paesaggio giardini e genericamente pratiche dell'abitare allora se quelli che abbiamo passato velocemente in rassegna finora erano tutti quanti antropologi e ho detto prima questo è il fiore all'occhiello anche il tratto distintivo del nostro corso di laurea abbiamo poi anche alcuni docenti che invece antropologi non sono non sono un un di più contribuiscono in modo estremamente degno alla complessità e alla ricchezza del del nostro corso di laurea qua abbiamo per esempio Marcella Schmidt è una esigna geografa si occupa di geografia culturale geografia di genere geografia delle isole tra l'altro è lei che codirige un centro di ricerca alle isole Maldive e di storia del pensiero geografico con una particolare attenzione ai cosiddetti geografi anarchici di inizio novecento non mi sono trattenuto dal inserire tra i docenti Ugo Fabietti Ugo Fabietti non è più tra noi è mancato due anni fa proprio in questi giorni grosso modo di maggio l'ho inserito perché è stato lui il fondatore il più strenuo e coraggioso propugnatore di un corso di laurea in antropologia di un centro per l'antropologia nel allora nascente Ateneo di Milano Bicocca parlo della seconda metà degli anni 90 aveva svolto ricerche in Arabia Saudita in Pakistan e poi ultimamente anche in Madagascar rimane una fonte di ispirazione una memoria vivissima in tutti quanti noi ha scritto numerosi libri alcuni dei quali continuano a essere adottati e studiati dagli studenti adottati da noi docenti e studiati dagli studenti come vedete si occupava di storie dell'antropologia anche lui di questioni epistemologiche come il collega Malighetti di identità etnica sulla quale è lungamente pubblicato di stratificazione sociale e poi anche non l'ho indicato ma me lo ricordo ora di religioni allora qua ho invece posto alcuni contatti ho già detto che il presidente e il collega Barnia tutti i contatti di posta elettronica sono nel formato più semplice e classico quello del nome punto cognome chiocciola unimib punto it quindi è estremamente facile raggiungerci i tutor del corso di laurea quindi le persone che fanno un po' da filtro tra tutto quanto il corpo docente e chi è esterno all'ateneo quindi le persone che mi sta seguendo adesso che possono essere interessate all'immatricolazione sono il sottoscritto e la collega Brivio naturalmente potete inviarmi una una mail in ogni momento e io in tempi per lo più piuttosto rapidi vi rispondo ci sono poi dei colleghi che hanno degli specifici compiti la collega Schmidt la geografa di cui dicevo poco fa si occupa di mobilità internazionale e ancora la collega Brivio che già vedete come tutor si occupa invece degli stage allora che cosa offre la bicocca e quali possono essere i motivi in più rispetto a quelli che ho già detto cioè la presenza di un vasto numero numero egemone di antropologi di insegnamenti di antropologia agli studenti che vi si iscrivono allora innanzitutto abbiamo delle biblioteche ben fornite non è un ateneo storico è il nostro un ateneo diciamo piuttosto giovane ha venti e qualche anni qualche anno di vita e tuttavia ha delle ottime biblioteche io stesso faccio parte di una commissione di bibliotecaria tutti i mesi ordino insieme ai colleghi decine e decine di volumi devo dire che lo scaffale di antropologia non mi ha mai deluso del resto i bibliotecari sono gente estremamente disponibile ma non solo disponibile estremamente capace mi è capitato di parlo personalmente di dover chiedere la ricerca di dovermi servire del servizio interbibliotecario e nel giro di qualche settimana ma alle volte di qualche giorno mi sono giunti i saggi provenienti dalle sedi più disparate e anche più lontane di cui avevo necessità sempre la biblioteca offre un servizio di consulenza bibliografica per le tesi di laurea oltre a questo servizio di consulenza bibliografica ci sono i tutor il sottoscritto e dicevo la collega Brivio che offrono un servizio di orientamento quindi siete un po' spaesati non riuscite a decidere quale potrà essere la vostra tesi di laurea rivolgetevi a me o ad Alessandra in studio se si potrà questo non dipende da noi ma dalla diffusione del virus altrimenti via post elettronica e cercheremo di considerare insieme le varie opportunità ci sono delle borse di studio per chi fa delle ricerche soprattutto all'estero relative alla tesi di laurea sono delle borse di studio devo dirlo non voglio nascondervi nulla limitate assegnate su base di merito quindi occorre essere bravi un bravo studente può sicuramente ambire a una borsa di studio un studente che batte la fiacca probabilmente non la prenderà mai ci sono degli programmi di mobilità internazionale che naturalmente coinvolgono il nostro Ateneo programma Erasmus con varie destinazioni abbiamo studenti sono stati a Parigi sono stati a Lisbona sono stati in Inghilterra a Londra come a Brighton abbiamo un centro di ricerca alle isole Maldive dove tutti gli anni generalmente nel mese di febbraio un gruppo di studenti di antropologia e del primo e del secondo anno si reca per fare un minimo di esperienza di campo e lì viviamo gomito a gomito gli uni con gli altri e insieme ci coordiniamo con i geografi che è co-direttrice del centro all'isola di Magudù sulle isole Maldive è un posto splendido tra l'altro e la collega Marcella Schmidt abbiamo o avevamo devo dire un cineforum quest'anno lo abbiamo tenuto per i motivi del virus ma già l'anno scorso non me ne ero occupato ero io a organizzarlo non è detto però che non ritorni abbiamo sempre a febbraio il cosiddetto World Anthropology Day e qua il corso di laurea che vi sto presentando della Bicocca si può freggiare si può vantare di aver portato questo evento in Italia era una giornata mondiale dell'antropologia appunto questo è il nome in italiano che esisteva all'estero nata negli Stati Uniti già da alcuni anni e noi l'abbiamo portata in Italia naturalmente soprattutto a Milano Lombardia e zone limitrime con una serie notevolissima di eventi non solo in Ateneo ma anzi più sul territorio che in Ateneo questa è la sua ambizione quella di far conoscere l'antropologia di portarla fuori dalle porte dell'università e che devo dire riscuote successo tutti gli anni c'è un servizio di consulenza di avvio al lavoro di cui invito tra un momento il collega Traversari a a illustrarci eh i tratti distintivi e non da ultimo abbiamo una eh rappresentanza studentesca sempre molto presente lo vedete dal fatto che sono tre gli studenti che quest'oggi si sono offerti di di partecipare e tra un attimo anche loro cederò la parola a questo incontro due sono effettivamente rappresentanti degli studenti Andrea e Daniese ancora grazie a voi senza dimenticare Claudia perché è importante la rappresentanza studentesca perché viene ascoltata c'è una commissione parintetica peraltro prevista dalla legge dove gli studenti sono presenti al pari paritetica appunto quello vuole dire del corpo docente e li si discutono questioni che hanno poi incidenza e devono essere prese in considerazione trattate all'interno dei consigli di dipartimento questa mattina tanto per fare un esempio avevamo consiglio di dipartimento e questioni emerse nella commissione paritetica portate all'attenzione del corpo docente dai rappresentanti degli studenti sono poi state trattate anche nel consiglio di dipartimento allora veniamo poi cederò appunto la parola a Marco e agli studenti a che cosa hanno fatto alcuni dei nostri studenti negli ultimi anni come vedete dalle date che ho indicato sulla sinistra della diapositiva che presento sono tutte quante ricerche piuttosto recenti risalgono al massimo in un pari 2015 quindi 4-5 anni e fa al massimo qua abbiamo la Serena una bravissima studentessa che ha fatto ricerche in India ed eravamo tre anni fa neanche no tre anni fa giusto sì qua Nicola è stato mio bravo studente ha fatto ricerche in Giappone dove si è trattenuto a lungo anche lui non più di tre anni fa qua siamo a Tokyo nella fotografia Cristina Pozzo invece ha fatto ricerche in Cina la sua ricerca che invece risale a qualche anno più indietro siamo nel novembre del 2014 qua vedete persone che praticano il Tai Chi in un parco pubblico di Pechino mi diceva lei abbiamo naturalmente degli studenti internazionali studenti stranieri che si iscrivono da noi qua abbiamo Roxana che veniva veniva da una repubblica ex sovietica non fatemi sbagliare quindi non vi dico quale e ha fatto poi una bellissima ricerca in Ghana siamo nel eravamo nel 2016 diceva all'inizio che il nostro corso di laurea è poi l'unico in Italia che permetta a chi voglia chi si senta tagliato per la ricerca chi si innamora dell'antropologia di proseguire in vista magari di una carriera accademica non voglio illudere nessuno la carriera accademica non è facile da intraprendere può essere ricca di soddisfazioni se uno c'è tagliato o può essere un colossale sbaglio se non ci è però diciamo almeno qua la possibilità di intraprendere la c'è altrove non c'è ecco che dicevo che cosa fanno i nostri dottorandi qua Nicola Candiani ha compiuto e ancora compie delle ricerche tra i minatori in Bosnia e Herzegovina e come vedete le ricerche possono essere estremamente esotiche dall'Africa Nera al Giappone alla Cina al Brasile ma anche piuttosto vicine qua siamo sull'altra sponda del mare Adriatico ritorniamo a ricerche invece più lontane più esotiche Caterina Shariada ha svolto ricerche in Thailandia e anche su temi piuttosto aspri come di quelli che riguardano la mancanza di lavoro e le persone che vivono o sulle discariche o ai margini delle discariche e invece temi decisamente più allettanti come quelli che tratta di cui si occupa Dario Nardini ha fatto delle ricerche sui surfisti in Australia lui è un esperto ormai di riconosciuto a livello internazionale il nostro dottorando molto rapido nella sua progressione di carriera è noto appunto per l'esperienza che è in antropologia dello sport infine concludo con Emanuele Abornino che ha fatto ricerche alle isole Hawaii e soprattutto sulla nostalgia per la tradizione in un contesto moderno detto tutto questo spendo giusto due parole per illustrarvi come ha affrontato l'Ateneo la situazione epidemica nella quale ci siamo imbattuti anzi diciamo pure che ci è capitata sulla testa da due mesi e mezzo a questa parte bene io devo dire sono contento di come l'ha affrontata lo dico non non per difendere il mio Ateneo adesso sono qua in una veste pubblica ma perché io stesso temevo il contagio vi sto parlando da Torino quindi anche io mi sarei spostato su Milano devo dire che appena scoppiati resi noti pubblicamente i focolai di Codonio e di Lodi eravamo a fine febbraio io ancora a fine febbraio avevo una sessione di esami sono stato immediatamente informati pensate era un sabato sera quindi momento durante il quale tra noi docenti nemmeno ci si sente si rispetta il sabato e la domenica ebbene sono stato informato che il successivo esame del martedì era annullato per questioni di sicurezza e di sanità pubblica quindi devo dire l'Ateneo è stato estremamente tempestivo io non posso rivolgergli un biasimo mi sono sentito protetto non sono stato forzato ad andare a Milano ho potuto sfruttare le piattaforme informatiche come questa sebbene abbiamo avuto oggi qualche qualche difficoltà tecnica che sono state approntate quasi subito l'esame perso a febbraio è stato recuperato un mese esatto dopo era previsto il 25 febbraio l'abbiamo poi fatto online il 25 di marzo il motto per il quale secondo il quale l'Ateneo si è mosso è questo che vedete indicato tra virgolette in alto sulla diapositiva ognuno protegge tutti e cioè si è fatta leva sulla responsabilità individuale di ciascuno degli amministrativi dei docenti e naturalmente anche degli studenti detto questo c'è tutta una serie di vieti e di obblighi io non sto neanche a leggervi ma li vedete che sono stati implementati e quali siamo tenuti e che siamo tenuti a rispettare tanto per seglianarle qualcuno oltre a quelli soliti per il contenimento del contagio le norme igieniche che ormai conosciamo a memoria di lavarsi le mani tenere la distanza indossare le mascherine eccetera noi siamo obbligati a comunicare nel caso in cui dovessimo andare in Ateneo la nostra temperatura la febbre che abbiamo la mattina prima di recarci in Ateneo dobbiamo farcela misurare ancora in ingresso gli ingressi dell'Ateneo sono stati ridotti dobbiamo segnalare la nostra presenza al direttore di dipartimento così che sappia chi c'è in dipartimento e non ci siano sembramenti non ci sia sovraffollamenti sono stati approntati dei percorsi a senso unico in modo che ci si incroci il meno possibile tutte le attività che era possibile spostare a remoto sia amministrative sia di biblioteca sia di didattica sia di esami sia appunto di questi incontri di orientamento sono state spostate a remoto sono stati ridotti gli accessi dicevo prima ma anche gli orari di apertura dell'Ateneo sono state distribuite maschere e guanti all'ingresso è stata creata una unità di crisi che ci informa quasi quotidianamente e nelle settimane di chiusura in casa ci informava ancora più sollecitamente che non adesso e che ha monitorato e ha preso tutte le misure necessarie nella situazione come quella che stiamo vivendo sono state fatte delle disinfezioni straordinarie nei singoli uffici sulle scrivanie nei bagni nei luoghi comuni sono state riorganizzate le mense in modo che i studenti fuori sede che risiedevano nei collegi dell'Ateneo potessero prenotare e poi prendere menù da sport sono stati installati infine dei dispenser con il disinfettante io credo francamente che molto più di quello che l'Ateneo ha fatto non si potesse aspettare non si potesse